Alla fine questa mostra del cinema di Venezia ce la ricorderemo come la mostra degli influencer. In effetti molti l'hanno percepita così perché sul red carpet si sono viste moltissime facce che centrano davvero poco col cinema, ma molto con i social. Tutte facce che soprattutto i cinefili hanno registrato come sconosciute. In realtà sono già diversi anni che gli influencer compaiono a Venezia. Quest'anno sono stati soltanto più evidenti del solito perché mancavano i pesi massimi sull'altro piatto della bilancia, ovvero i grandi big di Hollywood hanno disertato i red carpet per colpa dello sciopero degli attori. Ma se ci sono sempre stati ed erano soltanto nell'ombra, perché il festival ha cominciato e continua ad invitarli? La ragione è molto semplicemente per farsi pubblicità. Perché queste persone sono sì sconosciute al pubblico mainstream, ma non lo sono assolutamente per altri pubblici che diventano sempre più rilevanti, o che perlomeno lo sono per alcuni brand specifici. È semplicemente quindi uno dei modi in cui si esprime l'influencer marketing, che non ha rilevanza unicamente sui social, ma la trova in questo caso anche offline, dove i creator partecipano ad eventi per associare il proprio volto all'azienda che li ha ingaggiati o invitati. Se non li conoscete non importa, ma se li riconoscete allora è fatta, perché sono lì proprio per farsi vedere da voi.